Sì, senti, senti Radio Kiss Kiss, Melli si stava parlando degli eventi, applausi! Sì! Sì, grazie! Quelle eventi più seguiti dal punto di vista immediato, e quindi l'evento della storia che vi ricordate di più perché l'avete visto in televisione è quello più seguito. Abbiamo, appunto, dalla terza B della scuola Gianni Rodale della provincia di Como, Fallopio per esattezza, abbiamo Alessia. Qual è l'evento più seguito? La figlia di Elisa ritorna a Rivombrosa. Ecco, perfetto, puoi anche accomodarti lì. Grazie, grazie. Cioè ragazzi, ma chi ci avete portato? La figlia di Elisa ritorna a Rivombrosa. Ma sei tu che guardi ste fiction? Io no! No, è lei! Non sono lei! Continuiamo a parlare di queste cose, gli eventi. Ce ne sono tanti negativi, ma anche tanti positivi. Il matrimonio di Lady Diana. Con Carlo, con il signor Cavallo. Perfetto, continuiamo a farlo dopo le news. Perfetto. 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 Elisa ritorna a Rivombrosa. Perfetto. Perfetto. Sembrava Godzilla contro. Mi porto sette cassette. Nooo, ora ce la vuoi fare anche vedere. Nooo. Perfetto. Perfetto. Bisognava dire Dragon Ball. Bisognava dire Dragon Ball. Bisognava dire Dragon Ball. Un arroto. Un arroto. Perfetto.